Si svolta ieri presso località Ponte Cocuzza di San Luca la commemorazione del 38esimo anniversario dell'eccidio del brigadiere Carmine Tripodi, medaglia d'oro al valor militare, con la resa degli onori e la deposizione di una corona presso il monumento in memoria della vittima. Poco più di un mese fa era stato lo stesso ministro della difesa, Crosetto, a rendere omaggio al brigadiere caduto per mano dell'andrangheta. Successivamente nella chiesa Santa Maria della Pietà di San Luca la funzione religiosa è stata ufficiata dal cappellaro militare Donaldo Ripepi alla presenza delle autorità civili, militari e giudiziari del distretto Regino e del circondario di Locri. A seguire vi è stata la deposizione di una corona presso il monumento dal brigadiere Carmine Tripodi nell'omonima piazza di San Luca. Le tre cerimonie commemorano una medaglia d'oro al valor militare Carmine Tripodi, nato a Torre Orsaia in provincia di Salerno, nel lontano 1960 è stato arruolato nell'arma il 14 luglio del 77. Prestò servizio presso la compagnia di Bianco, la squadriglia Carabinieri di Motticella e da ultimo, l'8 gennaio 1982, al comando stazione dei Carabinieri di San Luca. Fu fortemente impegnato, con determinazione e grande professionalità, ad arginare l'ondata dei sequestri di persona sui crinali della Spromonte, riuscendo ad assicurare alla giustizia i rapitori dell'ingegnere napoletano Carlo De Feo, tenuto prigioniero per 395 giorni sulle montagne Regine. Il 6 febbraio del 1985, alle 21, mentre stava andando a bordo della propria autovettura presso la caserma dei Carabinieri di Bianco, subì in località Cucuzza a San Luca un agguato ad opera dei tre malviventi che, dopo aver bloccato il passaggio del mezzo, esplosero all'indirizzo dell'auto numerosi colpi di Lupara, attingendo mortalmente il militare e poi dileguandosi. Seppur ferito a morte, il sottufficiale reagì coraggiosamente, esplodendo alcuni colpi della propria arma, ferendo almeno uno dei malviventi in fuga per poi accacciarsi esanime all'interno della sua autovettura. Il 5 giugno dell'86, in occasione della festa dell'arma dei Carabinieri celebrata a Roma, il Presidente della Repubblica ha conferito alla memoria del brigadiere Carmine Tripodi la medaglia d'oro al valor militare.